Che cosa l'ha delusa in tutti questi anni della politica? Certamente si potrebbe, sarebbe potuto fare anche meglio per il nostro paese, però l'Italia è caratterizzata da un grande pluralismo politico che rende molto difficile prendere le decisioni che in un momento come questo, in un mondo globalizzato, si rendano necessarie. Quindi c'è una grande varietà di opinioni che vanno dall'estrema sinistra fino all'estrema destra che devono essere conciliate e la riconciliazione di queste opinioni a volte porta a decisioni verso il minimo denominatore piuttosto che al massimo.